Dove stiamo? Allora, stiamo praticamente sulla costa ai monti. Siamo sopra Suguneseba, sotto vediamo la Codola Orbisi, il Fluminetto. Questa è Siscale Su Portello? Siscale Su Portello, esatto. La foresta di Sassbaddes, in lontananza Montenopo San Giovanni. E giù, contro luce. Guarda la gente lì, i cacciatori. Pieno. Quelli sono arrivati fino a lì? Sì, certo. Quello è Sederbarcas? Sì, è Sederbarcas, no? Sì, dopo Sederbarcas, sì. Sto faiata di giornata oggi. Marco Pinto se se ne vieni, se vanno arrivare a Mait e dice, trovatevi una buona giornata. Ecco, provate. Guarda che bello questo ginetto. Devi fare una foto a questo ginetto. Aspetta, aspetta. Sto facendo una... E noi siamo praticamente un po' più in là, c'è la... un po' più a sinistra, c'è la... su Corne Seba. Qui sotto. Qui sotto c'è la Codola Orbisi. E a destra c'è Corroppo con la... Coggiunturas. Cosa, Mamalucas? Quella lì, giusto? Lì in fondo. E si vede, eccolo là. Si vede. Aspetta che lo inquadro adesso bene. Nura che vede. Adesso lo inquadro che c'è lo zoom. Ehm, no. Si vede appena in mezzo alla boscata. Sì, eccolo là. Eccolo qua. Nura che mereu. E forse c'è una persona su. Dove? Sul Nura che mereu. Mi sembra di vedere una persona. Vabbè, poi vi rivedremo il video. Posto stupendo.